Non posso esprimermi sulle proposte di modifica della Costituzione, di norme da inserirvi, perché non è al Presidente della Repubblica, non al Parlamento che la Costituzione affida il compito di modificarla. Ma in generale, e non mi riferisco alle proposte che hai elaborato, di cui parlavi, ma in generale, desidero far notare che la nostra Costituzione è stata scritta con grande saggezza e con altrettanta perizia, con norme capaci di essere applicate persino a oggetti allora sconosciuti, è capace di regolare situazioni allora imprevedibili che inevitabilmente intervengono nel corso del tempo. Da qualche tempo un registro che affiora una tendenza a voler inserire nella prima parte della Costituzione nuove disposizioni su argomenti specifici. Questa prima parte della Costituzione rappresenta da 75 anni un punto di riferimento sempre attuale, costante. Si trascure in alcuni casi il fatto che quel che si vuole aggiungere nel testo è già chiaramente desumibile dalle norme esistenzi, proprio per il carattere generale ed utile della loro formulazione e anche in base ai valori e ai principi che ne rappresentano il fondamento. Occorre evitare il rischio di una rincorsa che sarebbe sempre più frequente, inevitabilmente, per continui inserimenti di temi particolari. Questo richiederebbe quasi di far della Costituzione una sorta di albo di argomenti, in realtà riducendone il significato e il ruolo.